Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial su come ottenere 500.000 rune su Elden Ring in 40 secondi quindi invece di perdere tempo a stare seduti qua vi faccio vedere direttamente come fare queste rune invece di stare sempre qua e fare sempre questa mossa di raccogliere 80-90.000 rune quindi in questo caso seguite me per ottenere 500.000 rune noi dovremmo arrivare a 1.150.000 rune quindi in questo caso ne ho 677.000 le ho farmate qui però se volete queste rune in 40 secondi e avete fatto basta che avete la zamba di gallina in salamoia dorata e lo scarabeo d'oro equipaggiato quindi in questo caso se avete bisogno di queste cose in alto a destra nelle schete troverete i due video quello di ottenere la zamba di gallina in salamoia dorata e lo scarabeo d'oro ok quindi una volta arrivati qui noi siamo al palazzo di Mogwin quindi una volta arrivati qui in questo punto dovete arrampicarvi qua sopra piano piano eccoci ok una volta fatto fermiamoci qui piano piano in questo punto ok più il salto è lungo meglio è quindi inventario zamba di gallina in salamoia dorata equipaggiamento equipaggiamo così lo scarabeo d'oro e facciamo il nostro salto quindi per le 500.000 rune noi dovremmo arrivare a 1.077.000 quindi buttiamoci cominciate a colpire l'aria più l'incremento che abbiamo dato ci aumenterà così le rune senza incremento ci ne darà solamente 350.000 io sono al viaggio numero 4 e anche nel terzo mi dava 500.000 rune e ora non ci resta che vedere quante rune ci può dare facendo questo glitch ah eccole qua 1.115.000 rune noi eravamo a 677.000 più le altre rune che ti darà ok una volta fatto possiamo tornare indietro e fare altre rune qui ok e in tutto siamo riusciti ad ottenere 1.243.000 rune togliendo le 677.000 sarebbero in tutto sui 580.000 rune o 590.000 rune quindi in questo caso se questo video ti è stato utilissimo su come ottenere tutte queste rune in pochissimi secondi e più facendo la farm qui ormai salendo di livello qua sta diventando veramente difficile come puoi vedere mi chiede 1.366.000 rune per livello e so che dopo il livello 500 te ne chiederà veramente 4 milioni veramente un sacco quindi se questo video ti è stato utilissimo io ti consiglio di iscriverti al canale non perderti altre guide che ho fatto su Elden Ring li troverai tutto in alto a destra in una playlist piena di tutorial su Elden Ring e i glitch quindi grazie a tutti per questa versione noi ci vediamo in un prossimo tutorial ciao